Re Salomone, il terzo re di Israele, è una figura leggendaria non solo per il suo ruolo biblico, ma anche per la sua fama di saggezza, ricchezza e magnificenza. Secondo la Bibbia, Salomone era il figlio di re Davide e Bezzabea. La sua saggezza era tale che sovrani e dignitari di tutto il mondo si recavano a Gerusalemme per ascoltare i suoi giudizi e consigli. Salomone è noto soprattutto per due grandi imprese. La costruzione del Tempio di Gerusalemme, un'opera di straordinaria magnificenza, e le sue miniere d'oro, la cui ubicazione è rimasta avvolta nel mistero per millenni. Queste miniere sono descritte come la fonte della sua immensa ricchezza, che gli permise di adornare il Tempio e il suo regno con oro, argento e pietre preziose. Secondo le scritture, Re Salomone ricevette una straordinaria quantità di oro ogni anno. Nella Bibbia, nel primo libro dei Re, 10-14, si legge che il peso dell'oro che arrivava annualmente a Salomone era di 666 talenti, equivalenti a circa 23 tonnellate. Ma da dove proveniva tutto questo oro? È qui che inizia il mistero. Le miniere di Re Salomone sono descritte come un luogo remoto e inesplorato, pieno di tesori inimmaginabili. Alcuni testi antichi parlano di una terra chiamata Ofir, ricca di oro, pietre preziose e legname pregiato. Tuttavia, l'esatta ubicazione di Ofir è stata oggetto di speculazione per secoli, con teorie che vanno dall'Africa orientale all'India. La vera domanda che si pongono storici archeologi è se le miniere di Salomone siano realmente esistite o se siano solo un mito nato dalla leggenda del re. Alcuni studiosi suggeriscono che la storia delle miniere sia stata esagerata nel corso dei secoli, arricchita di dettagli favolosi che ne hanno accresciuto il fascino. Altri invece credono fermamente che le miniere siano esistite e che siano state la fonte della leggendaria ricchezza di Salomone. Le numerose spedizioni e ricerche archeologiche condotte nel corso degli anni testimoniano l'interesse costante per questo mistero. La leggenda delle miniere di Salomone ha avuto un'enorme influenza sulla cultura e la storia del mondo occidentale. Oltre alla Bibbia, la storia delle miniere ha ispirato innumerevoli racconti, leggende e opere letterarie. Uno degli esempi più celebri è il romanzo Le miniere di Re Salomone di Sir H. Ryder Haggard, pubblicato nel 1885. Il libro, che narra le avventure di un gruppo di esploratori alla ricerca delle leggendarie miniere, ha catturato l'immaginazione di generazioni di lettori e ha contribuito a mantenere viva la leggenda. Il fascino delle miniere risiede nella combinazione di storia, leggenda e mistero. La figura di Salomone, con la sua saggezza e ricchezza, rappresenta un simbolo di potere e grandezza che continua a intrigare l'umanità. Le miniere, avvolte nel mito, sono un simbolo della ricerca umana per scoprire l'ignoto e svelare i segreti del passato. Questa leggenda ci ricorda anche l'importanza delle storie e delle tradizioni orali nella preservazione della nostra storia collettiva. Anche se le miniere potrebbero non essere mai trovate, il loro mito continua a vivere, alimentando la nostra immaginazione e il nostro desiderio di avventura. La leggenda delle miniere di Re Salomone ha ispirato un'infinita serie di esploratori e avventurieri a partire dal Medioevo fino ai tempi moderni. La possibilità di scoprire immense ricchezze e di svelare uno dei più grandi misteri della storia ha attirato persone da tutto il mondo, pronte a rischiare tutto per trovare le mitiche miniere. Una delle prime grandi ricerche documentate delle miniere di Salomone fu intrapresa durante le crociate. I cavalieri crociati, ispirati dalle storie bibliche, speravano di trovare tesori nascosti che potessero finanziare le loro campagne militari. Tuttavia, le loro spedizioni non portarono a scoperte significative, lasciando il mistero intatto. Uno dei contributi più significativi alla leggenda moderna delle miniere è senza dubbio il romanzo di Sir H. Ryder Haggard, Le miniere di Re Salomone, pubblicato nel 1885. Il libro racconta l'avventura di Alan Quatermain, un cacciatore di elefanti e avventuriero, e del suo viaggio in Africa alla ricerca delle mitiche miniere. Il romanzo di Haggard, ispirato dalle antiche leggende e dalle storie degli esploratori, catturò l'immaginazione del pubblico vittoriano e divenne immediatamente un bestseller. La storia combinava elementi di avventura, mistero e scoperta, offrendo una narrazione avvincente che ha influenzato innumerevoli opere successive, inclusi film e altre storie di avventura. Nel corso del ventesimo secolo, la ricerca delle miniere di Re Salomone ha continuato ad attirare esploratori e archeologi. Una delle spedizioni più famose fu quella guidata dall'archeologo britannico Montagu Brown Lou Parker nel 1909. Parker e il suo team si recarono in Israele, convinti di poter trovare le miniere basandosi su antichi manoscritti e mapper. La spedizione di Parker, tuttavia, fu un fallimento e si concluse con il team costretto a fuggire dal paese a causa di problemi diplomatici. Nonostante i numerosi tentativi falliti, la caccia al tesoro delle miniere ha continuato a stimolare l'interesse di molti. L'archeologo americano Nelson Glick, negli anni 30 e 40, esplorò la regione della valle di Timna in Israele scoprendo antiche miniere di rame. Sebbene queste scoperte fossero significative, non fornirono prove definitive delle miniere d'oro di Salomone. Le teorie sulla possibile ubicazione delle miniere sono molteplici e variegate. Alcuni studiosi credono che le miniere si trovassero in Etiopia, una terra ricca di leggende e storie su immense ricchezze. La leggenda della regina di Saba, che si recò a Gerusalemme per incontrare Salomone e gli portò in dono grandi quantità d'oro, ha alimentato questa teoria. Un'altra teoria popolare suggerisce che le miniere fossero situate nella regione dell'Oman, sulla costa sudorientale della penisola arabica. Qui, antiche testimoniali, di attività minerarie e resti di antichi insediamenti, suggeriscono la possibilità che la regione fosse un importante centro di estrazione dell'oro. La continua ricerca delle miniere ci mostra quanto la leggenda abbia un impatto duraturo sull'immaginazione collettiva. Il desiderio di scoprire l'ignoto e di rivelare i segreti nascosti nelle profondità della storia è un impulso fondamentale dell'umanità. Oggi, con l'avanzamento delle tecnologie moderne, come la telerilevamento e la geofisica, la possibilità di scoprire nuove prove sulle miniere di Salomone è più alta che mai. Tuttavia, il vero fascino delle miniere non risiede solo nella potenziale ricchezza materiale che potrebbero contenere, ma anche nel mistero e nell'avventura che rappresentano. Uno dei luoghi più interessanti e potenzialmente collegati alle leggende delle miniere di re Salomone è la valle di Timna, situata nel deserto del Negev in Israele. Questo sito archeologico ha rivelato antiche miniere di rame che risalgono al periodo del regno di Salomone, intorno al X secolo. Gli scavi condotti nella valle di Timna hanno portato alla luce un complesso sistema di miniere e fonderie che testimoniano un'industria mineraria avanzata per quell'epoca. Il rame estratto a Timna veniva probabilmente utilizzato per vari scopi, inclusa la produzione di utensili, armi e ornamenti. Anche se queste miniere non erano d'oro, la loro esistenza dimostra che Salomone poteva avere accesso a risorse minerarie significative, contribuendo così alla sua fama di re ricchissimo. Gli archeologi hanno trovato prove di attività minerarie su larga scala, con resti di antichi strumenti e forni per la fusione del rame. Un'altra scoperta significativa è avvenuta a Kirbat en Nahas, in Giordania, dove sono state trovate antiche miniere e fonderie di rame. Questo sito, situato nel deserto del Feynan, è stato scavato da un team di archeologi guidati dal Dr. Thomas Levy dell'Università della California, San Diego. Le evidenze suggeriscono che l'area fosse un importante centro di produzione di rame durante il Regno di Salomone. Le datazioni a radiocarbonio hanno collocato l'attività mineraria in questo sito tra il X e il IX secolo Azi, un periodo compatibile con il Regno di Salomone. I ritrovamenti includono scorie di fusione, resti di edifici amministrativi e fortificazioni, suggerendo che il sito fosse ben organizzato e strategicamente importante. Queste scoperte supportano l'idea che Salomone avesse accesso a risorse minerarie vitali per la sua economia e potenza. Un altro aspetto affascinante delle ricerche sulle miniere riguarda il mito di Hopir, una terra leggendaria menzionata nella Bibbia come fonte di grandi quantità di oro, pietre preziose e legname pregiato. La localizzazione di Hopir è stata oggetto di speculazioni per secoli, con diverse ipotesi che la collocano in Africa orientale, Arabia e persino India. Le spedizioni navali di Salomone e del re fenicio Hiram, descritte nella Bibbia, salparono verso Hopir per ottenere ricchezze. Sebbene non ci siano prove definitive che identifichino Hopir con certezza, alcuni ricercatori hanno suggerito che potrebbe corrispondere a regioni come l'attuale Yemen o la Somalia, dove l'attività commerciale mineraria era fiorente nell'antichità. Con l'avanzamento delle tecnologie moderne, le ricerche archeologiche hanno beneficiato di strumenti sofisticati come il telerilevamento, l'analisi satellitare e la geofisica. Questi strumenti permettono agli archeologi di esplorare aree remote e difficilmente accessibili senza dover effettuare scavi invasivi. Ad esempio, la tecnologia LiDAR, Light Detection and Ranging, permette di creare mappe dettagliate del terreno e di identificare anomalie che potrebbero indicare la presenza di strutture sotterranee. Questa tecnologia è stata utilizzata con successo in diverse regioni del mondo per scoprire antiche città e siti archeologici nascosti sotto la vegetazione o il deserto. Negli ultimi anni ci sono state ulteriori scoperte che potrebbero essere collegate alle miniere di Salomone. Nel 2017 una squadra di archeologi dell'Università di Tel Aviv ha annunciato la scoperta di un sito minerario nell'area di Fainan, in Giordania, che potrebbe risalire al periodo di Salomone. I ritrovamenti includono resti di fonderie, strumenti minerari e insediamenti che suggeriscono una complessa rete di attività estrattive. Questi siti, sebbene non confermati come le miniere d'oro di Salomone, forniscono un quadro più chiaro delle capacità minerarie e metallurgiche della regione durante il regno del re biblico. Continuano a emergere nuove scoperte che offrono indizi preziosi e alimentano ulteriormente il fascino e il mistero delle miniere di re Salomone. Una delle teorie più affascinanti sulla localizzazione delle miniere di re Salomone punta all'Etiopia, un paese ricco di leggende e storia. L'Etiopia è spesso associata alla regina di Saba, una figura leggendaria che, secondo la Bibbia, visitò Salomone portandogli in dono grandi quantità d'oro, spezie e pietre preziose. Questa narrazione ha portato molti a credere che le miniere potessero trovarsi in Etiopia. Nel corso degli anni sono state scoperte in Etiopia antiche miniere d'oro e alcune di queste potrebbero risalire all'epoca della regina di Saba. Sebbene non ci siano prove definitive che collegano queste miniere a Salomone, la possibilità che l'Etiopia fosse la fonte della sua ricchezza rimane una teoria popolare tra gli storici e gli archeologi. Un'altra teoria suggerisce che le miniere si trovassero nell'attuale Oman, sulla costa sudorientale della penisola arabica. Questa regione, nota per le sue antiche rotte commerciali e la sua ricca storia mineraria, è stata considerata da molti studiosi come una possibile ubicazione delle miniere di Ophir, menzionate nella Bibbia. Nel sud dell'Oman, le antiche città di Sum Huram e Al-Baleid erano importanti centri commerciali, che trattavano spezie, incenso e metalli preziosi. Le ricerche archeologiche hanno rivelato la presenza di antiche miniere di rame e resti di insediamenti che suggeriscono un'intensa attività mineraria. Anche se l'oro non è stato trovato in quantità significative, la ricchezza mineraria della regione potrebbe spiegare parte della leggenda. Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che Ophir potesse trovarsi nell'India o in altre regioni dell'Estremo Oriente. Questa teoria è supportata dalle antiche rotte commerciali che collegavano il Medio Oriente all'India, attraverso le quali venivano scambiati oro, spezie, gemme e altri beni preziosi. L'India, nota per le sue ricche miniere di oro e pietre preziose, potrebbe essere stata una fonte significativa delle ricchezze di Salomone. La città di Suvarnabhumi, menzionata in antichi testi sanscriti, era famosa per le sue abbondanti risorse d'oro e potrebbe aver ispirato la leggenda di Ophir. Un'altra teoria intrigante propone che le miniere si trovassero nell'Africa orientale, in particolare nelle regioni che oggi comprendono lo Zimbabwe e il Mozambico. Le antiche rovine di Grande Zimbabwe, un vasto complesso di strutture in pietra risalenti al Medioevo, suggeriscono l'esistenza di una civiltà avanzata con significative capacità minerarie. Le miniere d'oro di questa regione erano tra le più prolifiche dell'Africa e hanno fornito metalli preziosi per millenni. Alcuni storici ritengono che le miniere di Zimbabwe potrebbero essere collegate alla leggenda, soprattutto considerando le antiche rotte commerciali che collegavano l'Africa orientale al Medio Oriente. Mentre molte teorie affascinanti sono state proposte, ci sono anche numerosi scettici che ritengono che le miniere di Salomone siano puramente leggendarie, senza una base storica o archeologica concreta. Alcuni studiosi suggeriscono che la leggenda sia stata esagerata nel corso dei secoli, diventando un simbolo della ricerca dell'oro e della ricchezza piuttosto che una realtà storica. Questi critici sottolineano la mancanza di prove dirette e documenti contemporanei che confermino l'esistenza delle miniere. Tuttavia, la mancanza di prove concrete non ha impedito alle leggende di persistere e di continuare a ispirare ricerche e spedizioni. Un'altra teoria interessante è quella che suggerisce che le ricchezze di Salomone non provenissero da un'unica fonte, ma da una combinazione di diverse regioni. Questa teoria sostiene che Salomone avesse stabilito una vasta rete commerciale che si estendeva dall'Africa all'Asia, raccogliendo oro e altri tesori da vari paesi. Le spedizioni navali, descritte nella Bibbia, potrebbero aver viaggiato in diverse direzioni, raccogliendo tributi e commerciando lungo le rotte marittime. Questo spiegherebbe come Salomone riuscisse ad accumulare una quantità così impressionante di ricchezze, senza dipendere da una singola miniera o regione. Le miniere di re Salomone rappresentano uno dei misteri più affascinanti e duraturi della storia. Il loro richiamo risiede nella combinazione di leggenda, avventura e possibilità di immense ricchezze nascoste. Anche se la loro esistenza non è mai stata provata, il fascino del mistero ha catturato l'immaginazione di generazioni di esploratori, studiosi e sognatori. Il mito delle miniere è più di una semplice ricerca di oro. È una ricerca di conoscenza, di scoprire i segreti del passato e di esplorare terre sconosciute. La storia delle miniere di Salomone ci invita a riflettere su quanto siamo disposti a spingerci oltre i confini conosciuti per trovare risposte a domande antiche. Il fascino delle miniere va oltre la semplice curiosità storica. Esse rappresentano un simbolo potente della ricerca umana di scoperta e avventura. La leggenda incarna il desiderio di svelare i segreti nascosti della terra e di comprendere meglio il nostro passato. La continua ricerca delle miniere è un esempio di come le leggende possano ispirare azioni reali e contribuire alla nostra comprensione del mondo. Gli archeologi, gli storici e gli esploratori che hanno dedicato la loro vita a questo mistero hanno arricchito la nostra conoscenza della storia antica anche se le miniere stesse non sono mai state trovate. Il mito delle miniere ha avuto un impatto significativo anche sulla cultura popolare. Dai romanzi di avventura ai film, la leggenda è stata reinterpretata in molte forme, contribuendo a mantenere vivo il fascino di questa storia antica. Il romanzo di H. Ryder Haggard, Le miniere di Re Salomone, ha dato il via a un intero genere di storie di avventura e ha ispirato innumerevoli adattamenti cinematografici. Queste opere hanno permesso al grande pubblico di esplorare il mistero attraverso le lenti della fantasia e dell'immaginazione. Nonostante le numerose ricerche e spedizioni infruttuose, la speranza di scoprire le miniere non è mai svanita. Ogni nuova tecnologia e metodologia archeologica porta con sé la possibilità di rivelare nuovi indizi e forse di risolvere finalmente il mistero. La ricerca delle miniere è una testimonianza della perseveranza e della curiosità umana. Ogni piccola scoperta, ogni nuovo frammento di prova ci avvicina un passo di più alla comprensione della verità. La speranza di scoprire le miniere è un esempio di come la passione per la conoscenza possa superare le sfide e gli ostacoli. Alla fine, il vero tesoro delle miniere potrebbe non essere l'oro o le gemme preziose, ma piuttosto il viaggio stesso. La ricerca ha portato a scoperte inaspettate, ha illuminato aspetti dimenticati della storia e ha riunito persone di diverse culture e discipline in uno sforzo comune. Il fascino del mistero ci ricorda che a volte il valore delle nostre ricerche risiede nelle lezioni apprese e nelle esperienze vissute lungo il cammino. La leggenda continua a ispirare, a sfidare e a incantare, mantenendo vivo il desiderio di esplorare e di scoprire i segreti nascosti della nostra storia. Le miniere di Salomone rimangono uno dei più grandi enigmi della storia. La loro leggenda, ricca di avventure e misteri, continua a stimolare la nostra immaginazione e a ispirare nuove generazioni di esploratori e studiosi. Mentre la ricerca delle miniere prosegue, siamo costantemente ricordati che alcune domande potrebbero non trovare mai una risposta definitiva. Tuttavia, il vero valore della leggenda risiede nella continua ricerca della verità, nell'avventura e nel desiderio inesauribile di esplorare l'ignoto. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio nel mistero delle miniere di Re Salomone. Continuate a seguirci per esplorare altri luoghi misteriosi del mondo e per scoprire le storie che si celano dietro di essi. Alla prossima avventura!